...i sciacalli, pennivendoli, puttane, sono parole molto pesanti, lei li condivide, i giornalisti? Io credo che alcuni titoli siano stati fatti in maniera... ecco, alcuni titoli sono stati, se vogliamo così dire, degli sciacalli. Ma però lì, querelli, no? Perché insultarli? Io non ho insultato nessuno, io ho querelato quando ritenevo che ci fosse da querelare. Io sono stata descritta, scusi se mi permetto, solo per dire qualcosa. Poi magari chiudiamola anche qui questa vicenda, perché insomma l'importante è guardare avanti. Però oggettivamente io sono stata descritta come una donna dissoluta che praticamente quasi quasi era l'amante di tutti gli uomini che passavano per il Campidoglio. Allora io credo che nei confronti di un uomo non si sarebbe mai detto questo. Una donna in lacrime, loca del Campidoglio, la patata bollente, adesso sono diventata la patata bollita.